E tuttavia, siccome fino al 2020 non abbiamo ancora identificato che cosa costituisca la materia oscura, ci rimane un po' la pulce nell'orecchio che sia tutto un grande abbaglio, cioè non abbiamo capito niente e la materia oscura sia frutto di un errore nostro di valutazione. Quando avremo scoperto di cosa è costituita, allora direi che le cose torneranno a posto. La pagina successiva... Sì. 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 No, 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 puoi ripartire direttamente anche da questa slide perché tanto nell'inizio vero e proprio, diciamo, c'è comunque registrato. c'è stato soltanto un momento di stop nella registrazione, mi scuso ancora con il pubblico. Sì. Vabbè, in ogni caso quello che era il discorso in che avevo cominciato quindi a intraprendere è una sintesi della presentazione è che vorrei portare alla vostra attenzione una serie di fatti che portano a concludere che esistono aloni di materia oscura e che giocano un ruolo importante in astrofisica. Questo è il convincimento generale di tutta la comunità scientifica, direi quasi unanime. Il punto su cui mi stavo soffermando è che il titolo stesso della conferenza potrebbe per certi versi essere discutibile, nel senso che parlo di scoperta degli aloni di materia oscura quando attualmente noi non sappiamo di che cosa sia costituita la materia oscura e quindi ci potrebbe essere lontanamente un rischio che tutto quello che abbiamo dedotto dall'applicazione delle leggi della fisica e che porta all'evidenza per la presenza di questi aloni vada un po' all'aria e possa essere messo in discussione. Questo è un problema che lascerei come remoto e manterrei il titolo della conferenza. Nelle pagine precedenti io avevo fatto riferimento a un discorso già iniziato ai tempi di Poincaré prima della scoperta delle galassie che fa vedere quanto lontano sia per l'astronomo, per il teorico, l'origine del problema delle eventuali presenze di stelle oscure o materia oscura nell'universo. Come dicevo, una parte importantissima che la materia oscura riveste in astrofisica è in ambito cosmologico e per questo può essere utile vedere la prossima pagina. La prossima pagina riprende quello che sono chiamati i campi profondi di Hubble, Hubble inteso come telescopio Hubble, non come astronomo Hubble. E di fatti vedete le date che ci sono riportate in cima sono per lo Hubble Deep Field 2005, 1995, poi per quello ultra profondo 2005. Per darvi un'idea, le dimensioni angolari di questo pezzo di cielo sono di circa tra i primi, c'è un po' meno per l'immagine a sinistra, un po' di più per l'immagine a destra, che è stata realizzata tramite una camera diversa portata su dagli astronauti quando lo shuttle volava, e la camera è l'Advanced Camera for Service, ACS. Ho voluto mettere il nome di Massimo Stiavelli in cima perché Massimo Stiavelli innanzitutto ha fatto i suoi studi in Italia, è di origine pisana, i suoi genitori vivono ancora qui a Pisa da dove vi parlo, stanno vicino alla stazione ferroviaria, il padre è un ferroviario in pensione, e Massimo Stiavelli si è trasferito negli Stati Uniti alla fine degli anni 90 e ha avuto il ruolo di artefice dell'immagine del campo più profondo, che è un'immagine raccolta con un'esposizione di circa un milione di secondi di tempo, e che consente di raggiungere galassie della trentesima magnitudine, siamo quindi ai confini dell'universo per quanto riguarda distanza da noi, e anche all'inizio dell'universo. L'immagine, a parte qualche stella, ha circa 10.000 galassie, e Massimo Stiavelli attualmente è mission head, capo missione del nuovo telescopio spaziale, che è il James Webb Space Telescope, che si spera vada su l'anno prossimo, si spera che i contrattempi e i rinvii sono all'ordine del giorno in queste grandissime iniziative. Ora, questo universo che vediamo qui sono galassie, luce e materia visibile, e quello che vi sto raccontando è che in realtà siamo convinti che quella luce che vediamo, quelle galassie che il telescopio ci mostra, sono quello che volgarmente si dice la punta dell'iceberg, cioè dietro ci sarebbero enormi quantità di materia oscura che in qualche modo l'astronomo cerca di misurare, quantificare e descrivere a modo suo. Se andiamo nella pagina successiva, c'è da capo una breve sintesi di come è organizzata la mia presentazione, c'è una parte 1 e una parte 2. Nella parte 1 dirò qualcosa sulle galassie, visto che in una conferenza generale è giusto dare una qualche idea di quello di cui si sta parlando. Poi farò un esempio che riguarda un fatto curioso, che è quasi legato al problema della materia oscura, ma in realtà è ben diverso. Se andiamo alla pagina successiva, la parte 1 è meglio descritta. Il punto che dicevo che è quasi collegato al problema della materia oscura è il buco nero centrale che abbiamo rivelato essere presente al centro della nostra, non della nostra materia oscura, scusate l'errore nella scrittura, ma della nostra galassia. Poi parlerò di due precursori al problema della materia oscura, che a posteriori, negli anni 70, si è riconosciuto, avevano già portato a ragionare riguardo la possibile esistenza di questi aloni. Veniamo alla questione delle galassie con la pagina successiva. Il motivo per cui si dice che le galassie furono scoperte alla fine del 1924 e all'inizio del 1925, una data così precisa è legata a un convegno della società astronomica americana che si è tenuto proprio a cavallo alla fine dell'anno. Il motivo della scoperta è legato al fatto che in antecedenza a quella data, prima di quella data, le sorgenti estese che l'astronomo misurava e osservava in cielo con i telescopi ottici allora disponibili erano una mistura di tanti oggetti di tipo molto diverso, di cui mostro qualche esempio in questa pagina composita. A sinistra e in alto c'è un ammasso globulare che è un insieme di stelle tipicamente 100.000, 1.000.000, 20.000, sono diverse dimensioni, ma siamo su quell'ordine lì, numero di stelle e quindi sono sistemi diciamo ragguardevoli, però non sono galassie. Le due in alto centrale, quelle chiamate Aquarius e Monoceros, dal nome della costellazione in cui si trovano, sono esempi di nebulose planetarie che sono in pratica gli stadi finali dell'evoluzione stellare e quindi gli oggetti così osservati sono in pratica delle stelle, cioè come dimensioni sono molto più piccole dell'ammasso globulare mostrato in alto a sinistra. E un'altra nebulosa che è la nebulosa del granchio è in alto a destra, è chiamata M1 nel catalogo di Messier. Quello che vediamo, che dà proprio l'impressione di uno splash, degli schizzi, è quello che si chiama il resto di una supernova, questa nebulosa nella costellazione del Toro, che è stata registrata dai cinesi nel 1054. L'esplosione della supernova che è avvenuta a qualche migliaio di anni luce da noi è stata così potente che per qualche giorno la supernova era visibile come stella luminosa in cielo anche di giorno, non solo di notte. E poi sotto finalmente ci sono due galassie, c'è NGC 1300 e NGC 4622, che sono entrambi esempi famosi, uno di galassia barrata e uno di galassia non barrata. Come dicevo, prima del 1924 tutte queste nebulose erano immaginate come sistemi estesi che forse potevano anche essere di natura simile, di scala simile. Poi con la misura di distanza di Hubble di galassie come Andromeda, M33 e altro del nostro gruppo locale, si è capito che alcune di queste nebulose, in particolare le due sotto, sono da chiamarsi galassie e sono degli universi isola fatti da centinaia di miliardi di stelle, sono dei sistemi immensi, la luce li attraversa impiegando centomila anni, mentre invece l'ammasso globulare è un pulsere guardevole come numero di stelle, è una cosetta abbastanza piccola, l'ucelo attraversa in qualche anno. E addirittura le nebulose planetarie, le Aquarius e Monoceros, sono sulla scala di un sistema solare un po' più grande, ma diciamo siamo su scala molto piccola. Quindi improvvisamente si è capito che esistono degli universi isola che sono le galassie, questo va sotto il nome del grande dibattito tra due scuole di pensiero, la misura di distanza fatta dall'astronomo, in particolare l'astronomo in questo caso era Hubble, ha portato a prova conclusiva che gli universi isola esistono. Se andiamo alla pagina successiva, vediamo che usando le parole di Jeans, che è un famoso fisico molto tempo fa, fino all'Ottocento, inizio al Novecento, nelle parole sue Hubble ha portato law and order, cioè ha portato ordine grazie a una classificazione che è quella che tuttora viene usata anche dagli astronomi professionisti e si distinguono, in questa classificazione che non commenterò oltre, le galassie a destra che sono quelle chiamate a spirale, in quanto possono avere una struttura spirale, a volte molto regolare, a volte meno, e poi si distinguono, nella parte a sinistra del diagramma di Apason, si distinguono le galassie ellittiche che non hanno queste morfologie così curiose come le spirali. Le spirali esistono in galassie che sono dotate di un disco, cioè la parte importante per quel che riguarda il seguito è che le galassie a spirale indicate nei due rami, a seconda se siano barrate o meno, secondo la classificazione morfologica di Hubble, queste galassie qui hanno un disco e la spirale si sviluppa nel disco di cui sto parlando. Il disco è in rotazione in media, diciamo in qualche modo, rispetto al centro della galassia stessa, quindi si tratta di oggetti piatti in rotazione intorno al proprio centro. Se andiamo alla pagina successiva, riusciamo ad andare alla pagina successiva, ecco queste sono foto prese con macchine fotografiche, non con telescopi, della Via Lattea che una volta si poteva vedere anche facilmente senza grossa fatica, adesso con l'inquinamento luminoso molte persone magari in vita loro non hanno avuto occasione di notare che in cielo c'è una striscia luminosa che si identifica il piano del disco della nostra galassia e questo piano del disco ha delle zone molto luminose per ovvi motivi, perché se la galassia ha il disco vuol dire che le stelle sono concentrate nel disco, sono raggruppate nel disco, si muovono nel disco e quindi uno vede tante stelle e tanta luce, però il disco è anche un'enorme industria chimica che produce un sacco di polveri e sporcizia che fanno assorbimento e in direzione del centro galattico che è approssimativamente, anzi senza approssimativamente, è nella costellazione del Sagittario, se guardate d'estate in prima serata verso sud, si vede che le zone di oscuramento dovute alla polvere interstellare è particolarmente imponente, tanto è vero che certe zone hanno un oscuramento che si quantifica in 30 magnitudini di estinzione. Se andiamo avanti con la prossima pagina, volevo ricordare quel punto della prima parte che sembra scollegato alla materia oscura, in realtà è collegato alla problematica di cui sto parlando. Il premio Nobel per la fisica di quest'anno è stato dato a pari merito a due astronomi, Genzel e Andrea Goetz, una signora, che sono capigruppo di un progetto che essenzialmente è sintetizzato in questa paginetta. Il progetto si è sviluppato nell'andare a studiare in enorme dettaglio le posizioni in cielo di alcune piccole stelle, quindi si tratta di oggetti a tutti gli effetti puntiformi, nelle vicinanze del centro galattico. La scala di due secondi d'arco e mezzo corrispondono circa un decimo di parsec alla distanza in cui vediamo queste stelle. Una di queste stelle passa molto vicina nella sua orbita a una cosa che gli astronomi chiamano Sagittario A e che è indicata nella parte destra della figura. E passa, gli astronomi hanno tentato questo modello di orbita ellittica per descrivere l'orbita di questa stella. se vedete riportati vicino alle varie crocette che indicano le posizioni astrometriche della stella a diverse epoche, è indicato l'anno in cui è stata presa la misura. Quindi se vedete l'ellisse dell'orbita è percorsa in qualcosa tipo 16 anni, credo sia il numero, insomma una quindicina d'anni. La stella, che è una stella di circa 15 masse solari, forse un po' di più, quando passa vicino a Sagittario A ha una velocità di qualcosa tipo 7-8 mila chilometri al secondo. Per paragone, pensate che la Terra, ricordate che la Terra gira intorno al Sole è a circa 30 chilometri al secondo. Il modello dinamico che può essere usato e che è stato usato da questi signori che poi hanno pure avuto il premio Nobel per questo studio è semplice, semplice, è quello delle leggi di Keplero. Poi c'è tutta la raffinatezza di fare fit con tutti i parametri, come fanno i fisici e gli astronomi, ma essenzialmente dalla terza legge di Keplero, che è il quadrato dei tempi di rivoluzione proporzionale al cubo dei semiasse maggiore dell'ellisse percorsa nel problema di Keplero, che sono le orbite dei pianeti, si deduce, sapendo poi dalle leggi di Keplero, o meglio, dalle leggi di Newton, della fisica di Newton, cos'è la costante di proporzionalità, si deduce che la massa responsabile di quest'orbita è una massa di 4 milioni di masse solari. E a tutto quello che si può fare, diciamo, tutto quello che si può dedurre in questa condizione, non ci sono modelli alternativi, è questo che volevo dire con quella frase che mi è venuta un po' male, si deduce che c'è un oggetto compatto che coincide con Sagittario A e che ha quella massa. Oggetti così compatti poi esistono nella fantasia dei teorici e dei fisici e sono i buchi neri. Quindi questo è un caso di materia oscura, però una materia oscura ben particolare, perché almeno sappiamo di cosa stiamo parlando. È un buco nero, sarà esotico quanto volete, ma almeno sappiamo di cosa stiamo parlando. Se andiamo avanti alla pagina successiva, abbiamo la riprova che appunto con questi tre casi di galassie viste di taglio a spirale, perché ci sia la spirale è una nostra congettura, perché vediamo solo dei segmenti, dei dischi, e notate che si vede la stessa polvere che si vede nella Via Lattea, per esempio in NGC 891 si vede molto chiaro. Allora, il problema che può venire in mente al dinamico è di collegare lo spessore del disco a quanto massiccio è il disco. Il discorso è molto semplice in realtà, e pensate a un giocoliere che mandi per aria un sacco di palline con velocità diversa. Siamo nel campo della gravità. Allora, l'altezza media di queste palline che viene raggiunta sarà un'altezza che dipende da quanto è forte l'accelerazione di gravità. Allora, l'astronomo che spesso inverte questi ragionamenti, quando riuscisse a misurare le velocità in gioco delle stelle in direzione verticale e misurare lo spessore e quindi l'altezza media raggiunta da queste stelle può dedurre qualcosa sulla forza di gravità che le tira verso il disco e quindi capire quanto massiccio è il disco. E se andiamo alla pagina successiva la pagina dopo, ecco quello che è riassunto a parole è questo concetto portato avanti in maniera tecnicamente impeccabile da Jan Hort a partire dagli anni 30 e questo lavoro iniziato appunto da lui negli anni 30 e poi ripreso da John Bacall un altro astrofisico fisico famosissimo che è mancato non molti anni fa loro sono arrivati alla conclusione inizialmente Hort con mezzi, telescopi e strumenti ben più modesti di quanto erano disponibili ai tempi di Bacall che siamo negli anni 80 sono arrivati alla conclusione che ci fosse un disco di materia oscura nel senso che la gravità necessaria per spiegare lo spessore del disco della nostra galassia nelle vicinanze del Sole era troppo forte la gravità rispetto alla gravità deducibile guardando il cielo stellato e mettendo insieme la massa visibile e calcolando a rovescio la gravità prodotta dalla materia visibile questo precursore che chiamo precursore l'ho citato perché è stato un errore clamoroso cioè ho fatto uno sbaglio Jan Hort e John Bacall sono persone eccezionali eppure hanno ottenuto un risultato sbagliato se si va alla pagina successiva viene ricordato che quello che dicevo prima nella prima frase e poi viene ricordato che alla fine degli anni 80 due astronomi Kuhn Keuken di origine belga ma che adesso è da sempre in Olanda e Jerry Gilmore inglese si sono messi per conto loro a fare lo stesso tipo di problema ma con un'indagine e un'analisi leggermente diversa da un punto di vista metodologico e alla fine hanno concluso che non c'era nessun disco di materia oscura e che quindi Hort e Bacall avevano torto fino alla fine del secolo la cosa è rimasta in bilico perché essendo tutti bravissimi astronomi bravissimi astrofisici non c'erano errori ovvi li avrebbero trovati e si sarebbero convinti a vicenda di chi aveva ragione la situazione invece era quella in cui semplicemente c'era insufficienza di dati e questo è stato coperto i dati sono diventati sufficienti con il lancio della missione Iparcos che a fine secolo con la capacità di misure astrometriche dell'ordine del milliarco secondo vi ricordo che un millesimo di secondo d'arco è circa l'angolo sotteso da una persona alla distanza della luna per darvi un'idea di che angoli stiamo parlando le misure di Iparcos rianalizzate da Keuken Gilmore e altri colleghi e poi soprattutto da un collaboratore di Bacal che all'epoca aveva abbandonato gli studi di dinamica delle galassie si era dedicato al problema del neutrino solare alla fine ci si è convinti che appunto chi aveva ragione era che erano Keuken e Gilmore e quindi il disco della nostra galassia non contiene quantità significative di materia oscura questa è una cosa importante da far notare vediamo la pagina successiva la pagina successiva è un secondo precursore qui c'è un modello dinamico di tipo diverso e qui si tratta di studi che partono già negli anni 30 essenzialmente ragionano un po' come con l'esempio se volete un po' banale del gioco liere in cui si mandano le palline per aria e si deduce poi quant'è l'accelerazione di gravità qui la situazione è un po' diversa vengono studiati ammassi di galassie che sono insiemi che apparentemente sembrano ben organizzati tra di loro da essere delle unità nell'universo osservato e di questo di questi ammassi vengono misurate le velocità lungo la linea di vista grazie all'effetto Doppler ovviamente su certe righe spettrali e si deducono quali sono i moti delle galassie all'interno i moti tipici le velocità tipiche parlo di modulo della velocità all'interno di questi di questi sistemi e le velocità viste sembrano essere troppo alte rispetto a quello che uno sospetterebbe in base alla materia alla massa che uno assegnerebbe alle galassie viste che compongono la massa stesso c'è un termine c'è un teorema tecnico che si chiama teorema del viriale che quantifica meglio tutta questa questa questione però il punto che volevo far notare è che all'epoca viene concluso non che esistano gli alone di materia oscura che in termini moderni non sarebbe mai emerso il discorso semplicemente come viene citato nelle ultime due righe riprese da un articolo di Smith che è uno degli autori che si sono cimentati su questo problema viene concluso che ci dovrebbe essere una gran quantità di materiale internebular cioè tra nebulosa e nebulosa tra galassie e galassie passano gli anni e quindi anche la pagina è la seguente quella che volevo vedere questo è un'immagine ottica dell'ammasso di coma che è a circa 300 milioni di anni luce da noi sembra tanto ma è qua vicino sulla scala dell'universo se andiamo alla successiva la successiva pagina ci ricorda che alla fine degli anni 70 si comincia a fare astronomia X grazie a telescopi sensibili appunto ai fotoni della banda X mandati nello spazio e si scopre che c'è un'enorme quantità di mezzo intergalattico che è di fatto un plasma che pervade gli ammassi di galassie allora all'epoca di Smith questo non era affatto noto perché i telescopi erano solo ottici e non si aveva la capacità delle misure X disponibili a fine secolo 900 che portano a questa conclusione e verso la fine di quel secolo del secolo del 1900 si arriva a concludere in alcuni casi che addirittura oltre il 30% della massa totale potrebbe essere sotto forma del plasma intergalattico che non è visibile ai telescopi ottici ma si vede negli X la situazione moderna quindi finché il 30% potremmo essere in bilico un po' come è stato Orte Bacal con la questione del disco della nostra galassia in realtà poi il secolo nostro ha portato a misure convincenti per cui attualmente si ritiene che l'85% della massa degli ammassi di galassie sia sotto forma di materia oscura e non è né sotto forma di galassie né sotto forma di plasma intergalattico però la dimostrazione e la scoperta degli aloni in materia oscura avviene nella pagina successiva tramite lo studio della rotazione delle galassie spirale allora quello che volevo raccontare se si va alla pagina successiva ancora è che per quanto riguarda la scoperta che le galassie girano la cosa era ben nota da tempo e per dire l'Inblad aveva congetturato che la nostra galassia fosse in rotazione intorno al centro e la misura di questa rotazione è stata effettuata dallo stesso Jan Hort che avevo citato prima poi in realtà il colpo che ha portato uno sviluppo straordinario in questo tipo di misure è la scoperta della riga 21 cm associata all'idrogeno atomico che è una riga particolare che appunto aiuta il radioastronomo a fare misure di velocità sempre tramite l'effetto Doppler l'effetto Doppler vi ricordo è quello che altera il suono anche non solo le onde luminose nella sua frequenza se uno viaggia in macchina se ne accorge in continuazione se va contro una sorgente luminosa o se si sta allontanando da una sorgente luminosa scusate sonora o viceversa se c'è una sorgente sonora che ci viene contro oppure si allontana passa da una situazione di suono acuto a una situazione di suono più grave ora questo è una cosa tecnica che ci dice che con la 21 cm si possono fare buone misure di velocità ecco quello che è successo è che dopo qualche indizio molto sporadico ottenuto subito gli olandesi hanno deciso di fare un intero progetto che fosse dedicato allo studio di come girano le galassie a spirale questo richiedeva un radiotelescopio dedicato che è chiamato WSRT W è ridoppio sta per Westerbork che è una cittadina che è stata ospite di un centro di concentramento in momenti più bui del secolo scorso da un punto di vista della nostra Europa in ogni caso ospita questo radiointerferometro e nella pagina successiva si vede qual è l'idea c'è un'unica formula che voglio mostrare ma che mostro appunto perché chiunque abbia magari fatto un liceo può ricordare di cosa sto parlando semplicemente per il moto circolare e la rotazione dei nostri dischi delle galassie a spirale è effettivamente in buona approssimazione riportabile a un moto circolare ci deve essere un bilancio tra chi genera il moto circolare e la velocità e il bilancio è scritto lì nella prima striscia c'è la descrizione esatta in termini del termine di destra di cdr che indica l'accelerazione gravitazionale nella seconda striscia della seconda parte della pagina c'è una rappresentazione che è possibile solo nel caso di campi gravitazionali a simmetria sferica e purtroppo c'è stata molta confusione generata dall'abuso di questo secondo modo di scrivere le cose che in realtà è possibile solo in circostanze molto particolari in ogni caso a parte le discussioni tecniche è chiaro che se io riesco a misurare la velocità posso avere informazioni tramite la dinamica le leggi della dinamica sul campo gravitazionale che c'è in gioco se andiamo nella pagina successiva quello che viene richiamato è che sorprendentemente il progetto di Westerbork e poi accompagnato anche da altri studi di americani di altri telescopi anche di studi ottici eccetera ha portato a una cosa molto curiosa e cioè è che la forma della curva di rotazione cioè l'andamento di V di rotazione in funzione della distanza dal centro R tende a essere piatta cioè la V rimane costante anche a grandi raggi e questo contrariamente all'aspettativa di chi si immagina che quando si va molto distante dal centro alla fine dovrebbe dominare come regola di andamento con il raggio quello che è la regola di Kepler che impone che vi vada come l'inverso della radice di R purtroppo come indicato nella parte sotto di questa pagina tutto l'entusiasmo è stato sulle curve di rotazione piatte e sul fatto che la piattezza fosse evidenza di aloni di materia oscura notare che la decrescita chepleriana vi che scende come uno sulle radice di R fa sì che se uno vede una cosa piatta che sta alta vuol dire che il disco gira più velocemente di quello che dovrebbe in base alle aspettative è lì che uno dice allora se gira così velocemente dovrebbe esistere della materia oscura che noi non vediamo e che lo fa girare più forte questa è sostanzialmente l'idea però la cosa è stata fatta con la fretta dell'entusiasmo con gran confusione un astronomo di origine estone ma che ha sempre lavorato a parte che ha fatto il PECD a Harvard ma ha sempre lavorato in Australia a Gris Calnais in una conferenza dell'82 mostra mette in luce le contraddizioni di questa identificazione piattezza equivalenza con la presenza di alonimi in materia oscura e se si va alla pagina successiva la pagina dopo si scopre confermato da Steve Kent che ha analizzato tutte le curve di rotazione ottiche disponibili all'epoca circa un centinaio di qualità ha dimostrato questa pagina un po' tecnica ma chi c'ha un po' d'occhio e legge quello e sente quello che intendo far notare può capire qual è l'idea Steve Kent riesce a fittare le curve di rotazione che sono i punti i data points che sono indicati riquadro per riquadro galassia per galassia solo chiamando in causa il campo gravitazionale prodotto dalla materia visibile la materia visibile è rappresentata dalla fotometria che sono i riquadri in alto di ciascuna delle tre galassie rappresentate la materia visibile cioè la fotometria viene decomposta in genere in un disco e un riconfiamento centrale che gli astronomi chiamano bulge e a ritroso Steve Kent calcola il campo gravitazionale prodotto da disco e bulge li combina con le curve continue che sono indicate nei grafici e si vede che le curve totali cioè come gira la galassia può essere bene interpretato senza chiamare in causa aloni di materia oscura nonostante che se prendete l'oggetto per esempio di sinistra NGC 801 la curva di rotazione si appiatta su decine di chiloparsec lo stesso anche per la 2885 UGC 2885 che è a destra della figura andiamo alla pagina successiva la pagina successiva e qui viene fuori la nostra NGC 2403 che fa parte della locandina del seminario rappresenta questa figura ripresa dal lavoro di Renzo Sancisi da un lavoro di Renzo Sancisi Eciert Fanalbana e riguarda due galassie una di queste 2403 per i quali come nella pagina precedente in alto è riportata la fotometria cioè la distribuzione di luminosità della galassia in funzione del raggio quanto più luminoso è il centro rispetto alla periferia e poi quantificato dal grafico che fa vedere come scende la luminosità nella periferia le curve lì sono delle rette perché gli astronomi usando magnitudini che sono quantità logaritmi che trasformano degli esponenziali in rette ma questo è un aspetto tecnico che dico per chi conosce un pochino queste cose il punto che non è particolarmente tecnico ma è benissimo chiaro da questa pagina è che se vedete i punti cinematici che riguardano la curva di rotazione quindi sia per 24.03 che per 31.98 i punti rimangono effettivamente alti e piatti diciamo la curva di rotazione rimane alta e piatta rispetto alla decrescita chepleriana che è rappresentata dalla curva che vediamo lì però a differenza della pagina precedente qui i punti cinematici sono offerti dal disco di idrogeno atomico che è molto più esteso del disco luminoso delle stelle della galassia stessa cioè qui il punto decisivo che è quello che ho indicato il ruolo decisivo delle curve di rotazione radio è che se uno si affida solo alle curve di rotazione ottica ottiche continua a argomentare riguardo alla proprietà della curva di rotazione rimanendo all'interno della distribuzione di massa che genera la parte più importante del campo invece usando le curve radio siccome i dischi di idrogeno atomico sono molto più estesi in molti casi rispetto a quanto siano estesi i dischi stellari della galassia delle galassie si va a campionare effettivamente il campo gravitazionale molto all'esterno dove effettivamente il contributo della materia visibile dovrebbe evidenziare la decrescita chepleriana e invece non la evidenzia il risultato conclusivo è che da queste indagini forse c'è una pagina successiva che mostra meglio e riassume la cosa per 31,98 questo è ripreso da un articolo su Astrophysical Journal che è dell'85 dopo oltre dieci anni di confusione su queste curve di rotazione secondo me questo articolo pone fine al discorso grazie all'utilizzo di radioastronomia che campiona il campo gravitazionale su scale di lunghezza sufficientemente grande cioè ben all'esterno dove risiede la materia visibile del disco e non c'è scampo se vedete un contributo alla curva di rotazione viene descritto come halo come curva e questo halo è il contributo di quello che viene chiamato l'alone di materia oscura cioè alla fine viene data con questo lavoro secondo me è la prova convincente che esistono gli aloni di materia oscura qui sono circa ho esaurito il mio tempo però non ho esaurito le mie pagine per cui se si va alla pagina successiva c'è uno sviluppo moderno astronomia X e lenti gravitazionali dipende dal moderatore e soprattutto dalla pazienza di chi volesse starmi a sentire se volete farmi sforare di 5-10 minuti penso non ci siano problemi nel senso intanto rifacciamo un recap anche con il pubblico che si è collegato ti salutano un po' tutti sono circa una quarantina di persone abbondanti insomma collegate e a parte lo ripeto mi chiedo scusa di nuovo per i problemi tecnici di inizio trasmissione per ora in questo momento non ci sono domande però penso che tu possa puoi proseguire tranquillamente perché ne avrei una io diciamo per rompere un pochino il ghiaccio però proprio su questo argomento ma è più una considerazione quindi secondo me direi si può proseguire senza problemi mi sembra abbastanza interessato provo ad andare in fondo ci metterò un 5-10 minuti ecco parto con queste immagini che può essere vista da molti di voi perché è diventata famosa si chiama il bullet cluster che è un un ammasso di galassie in cui l'immagine è composta di un'immagine ottica che si intuisce sono ricordo un po' certe cose che ho mostrato all'inizio e poi c'è delle cose colorate in blu e in rosso il rosso rappresenta l'emissione X essenzialmente e il blu è collegato alla distribuzione di massa totale questo bullet cluster per darvi un'idea è a qualche miliardo di anni luce da noi cioè la luce è partita qualche miliardo di anni fa prima di arrivare ai nostri telescopi questo è molto famoso perché potrebbe essere una prova ancora più forte di altre che abbiamo dell'esistenza della materia oscura e non ne parlo adesso perché appunto c'è poco tempo ne parlerà o se ci sarà qualche curiosità al riguardo andiamo la successiva la successiva mi serve anche per indicare una cosa che è collegata all'immagine appena mostrata quella del bullet cluster cioè una serie di sviluppi importantissimi moderni che riguardano misure di massa che sono in pratica completamente diverse come impostazione dalla diagnostica che ho descritto finora che fa appello alle leggi della dinamica misure di velocità e discorsi di quel tipo ricordate l'esempio banale del giocoliere con le palline le velocità in gioco qui la diagnostica cioè la nostra capacità di misurare la massa presente in un dato sistema è fornita da un effetto particolarmente moderno e interessante che va sotto il nome di effetto lente gravitazionale il Tommaso Treu per esempio è responsabile di un press release che è mostrato in alto a sinistra di un effetto lente gravitazionale che consiste di un anello di Einstein doppio addirittura e addirittura questo è andato su mi pare sull'Economist all'epoca una paginetta dell'Economist riservata Tommaso Treu che è figlio del lavorista Tiziano Treu già senatore della Repubblica nel pezzetto che c'è sull'Economist c'era scritto che lui era come avesse usato l'espressione inglese hit the jackpot nel senso che avesse fatto sbancato al Casinò perché la situazione dell'anello di Einstein doppio si realizza in natura sotto la circostanza estremamente fortunata di avere una galassia che noi stiamo guardando una seconda galassia dietro ma allineata benissimo perfettamente allineata con essa che genera l'anello più interno e una terza galassia ancora più indietro che è perfettamente allineata con le prime due che genera l'anello più esterno l'anello viene generato come effetto di illusione ottica diciamo un effetto ottico legato all'ottica dei fotoni come si muovono i fotoni e come sono deviati dalla gravità e per dire le tre galassie in questione sono se ricordo 3, 6 e 11 miliardi di anni luce da noi ora che si siano messi giusto apposta per far piacere a Tommaso Treu e farlo diventare famoso andare sull'Economist è abbastanza curioso a parte le battute il commento ci sono altri esempi di lenti gravitazionali c'è l'UIC Lens in a destra dove è coinvolto Marco Lombardi che ha pure studiato in Italia attualmente mentre Tommaso Treu è prof a UCLA in California Marco Lombardi è prof a Milano questi effetti lente gravitazionale in che modo sono utilizzati dall'astronomo per misurare le masse si inverte il discorso cioè si dice dagli effetti visti gli archi gli anelli tutte le cose le immagini multiple come indicato in basso a sinistra dagli effetti che vengono associati alla lente gravitazionale che sono calcolabili usando le leggi della relatività generale usando queste leggi si può dedurre quale deve essere quanto massiccia deve essere la galassia che è responsabile di questi effetti che ho chiamato di illusione ottica cioè di deflessione e di moltiplicazione delle immagini generazione degli anelli quindi la diagnostica consiste misurare queste cose curiosissime divertenti e dedurre quanto pesante è la lente stessa e la cosa incredibile è che uno riesce con questo meccanismo strumento di indagine riesce a pesare galassie che sono distante miliardi di anni luce da noi o a masse di galassie distanti miliardi di anni luce da noi se andiamo alla pagina successiva c'è un altro caso particolarmente interessante che avevo messo insieme ancora una volta ho fatto riferimento a Tommaso Treu qui la cosa curiosissima per chi di voi fosse interessato è nominato anche un filosofo nel titolo di questo articolo scientifico Karl Popper invece Refsdall è un teorico norvegese la supernova Refsdall che è esplosa circa 100 miliardi 10 miliardi di anni luce da noi ha avuto la sua immagine moltiplicata per 4 ci sono 4 immagini prodotte da effetto lente gravitazionale generate da una galassia che c'è dietro e poi c'è stata la fortuna che nella galassia esplosa una supernova e il risultato qual è? Siccome i cammini ottici delle singole 4 immagini sono leggermente diversi l'uno dall'altro il botto dell'esplosione viene visto prima nel cammino ottico più breve verso noi e poi di seguito vengono visti nelle altre parti ora si dà il caso anche questo molto fortunato non c'è nulla a priori che lo richieda che le quantità in gioco peso della lente tempo di propagazione dalla distanza in cui è scoppiata la supernova cammini ottici e tutto fa sì che le immagini si presentano a noi a qualche anno di differenza e la cosa meravigliosa è che l'articolo di Tommaso Treo e collaboratori è riuscito a dire guardate che l'immagine terza quarta non so quale sia stata la notazione all'epoca utilizzata ben descritto nell'articolo il marzo prossimo dovrebbe presentare l'esplosione della supernova cosa che si è regolarmente avverata questa è una cosa che io trovo trionfale per l'astrofisica una volta tanto si fa una predizione e si vede una cosa che capita nel futuro non si spiega una cosa già avvenuta in tempi passati andiamo alla pagina successiva ecco la pagina successiva sembra essere un tantino pessimistica nel senso che volevo ricordare che fino a quando noi in realtà non riusciremo a capire di cosa è fatta la materia oscura potremmo persino dubitare di aver sbagliato tutto perché ripeto non abbiamo ancora una convincente identificazione di cosa costituisca la materia oscura e per dire che questo tentativo di molto poco ortodosso di che ci richiama un po' l'idea dell'ettere cosmico se pensate a chi ha visto un po' come è nata la relatività speciale prima e generale poi questo tentativo è stato perseguito da alcuni teorici in gamba perché sono alcuni sono molto in gamba in particolare Milgrom è tra i primi autori di questo tentativo e questo tentativo va sotto nome di teoria Mond e questa teoria Mond a mio giudizio non è ancora stata messa fuori gioco quindi secondo me più che parlare diciamo più che aver parlato di un tema su cui uno dice il progresso in astrofisica è stato enorme e abbiamo ottenuto un trionfo comprendendo certe cose in quello che vi ho raccontato vi ho fatto vedere che ci sono stati tantissimi errori strada facendo anche da parte di astrofisici importanti siamo in una situazione che è purtroppo ancora spinosa perché non abbiamo identificato di cosa è fatta la materia oscura e ciò nonostante abbiamo fatto un progresso enorme perché abbiamo a disposizione telescopi strumenti modelli fisici eccetera che ci consentono di dire cose quantitative su oggetti che sono a tutte le distanze possibili immaginabili la chiusura completa è l'ultima pagina è l'ultima pagina la successiva che è tradotto scusate la tradizione la traduzione che potrà essere un po' modesta non raffinata perché l'ho fatta io è presa dal libro dove ho studiato fisica 1 di Feynman lectures on physics notate la data 1963 e in questa paginetta che è all'inizio del primo volume del Feynman lectures on physics un grandissimo fisico teorico come Feynman si permette di scrivere cose tipo guardando un ammasso globulare lì ho messo non la foto bruttissima che riporta le lezioni di Feynman ho preso un'immagine moderna guardando un ammasso globulare se uno non si rende conto che c'è l'azione della gravità è una persona senza anima dice he has no soul e l'altra cosa che è molto curiosa è quello che aggiunge dopo e dice sì sì d'accordo c'è la gravità che funziona anche a queste enormi scale che si incontrano in astrofisica però non abbiamo certezza che la legge di gravità sia esattamente quella della legge uno su r quadro che diciamo è la legge di gravitazione di Newton ecco con questo volevo concludere spero di non avervi annoiato andando fuori tempo o direi no nel frattempo intanto c'è anche una domanda da parte di Giuliano Silei un po' si ricollega diciamo ai risultati magari moderni della cosmologia che quantifica le componenti diciamo dell'universo tra materia ordinaria e materia oscura e lasciamo perdere l'energia oscura chiedeva nello specifico se dalle osservazioni più recenti è stato possibile capire se i valori insomma della materia oscura che sono state stimate attorno come percentuale al 26,8% e se dalle ultime osservazioni si sono visti diciamo delle anomalie cioè degli aumenti oppure al contrario delle diminuzioni rispetto magari ai dati di qualche anno fa ecco riguardo penso stimando sfruttando anche diciamo gli effetti delle lenti gravitazionali questa era più o meno la domanda l'ho reinterpretata ma questa è quella di Giuliano Silei nel frattempo gli altri ringraziano per la conferenza se capisco la domanda cerco di rispondere brevemente ma senza ovviamente non sono neanche la persona più adatta a rispondere in completa competenza sulla domanda stessa però la domanda fa riferimento a tre parametri cosmologici che caratterizzano l'evoluzione dell'universo e viene richiamato il fatto che il parametro di massa che si quantifica in quel 26.8 eccetera è diciamo la nostra misura di quanto vale uno dei tre parametri cosmologici principali gli altri due parametri sono il contenuto che oggigiorno si chiama di energia oscura che è collegato all'accelerazione dell'universo non all'espansione dell'universo e quel parametro ha circa un valore che è intorno a punto 7 e in modo tale che la somma di questi due parametri quello di massa e quello di energia fanno circa uno se facessero esattamente uno si dice la geometria dell'universo sarebbe piatta se la somma dei due parametri non facesse uno la geometria dell'universo sarebbe diversa e c'è tutta una serie di conseguenze allora la risposta alla domanda fatta che darei è la seguente credo che le misure più recenti perché ci sono diversi modi di attaccare e affrontare una misura di questi parametri cosmologici si usa la radiazione di fondo cosmologico a 3 gradi kelvin 2,7 quello che è si usano le lenti gravitazionali come richiamava chi ha fatto la domanda si usano tante cose c'è il convincimento a mio giudizio che effettivamente il parametro di massa e il parametro di energia oscura si combinino a dare un universo piatto questo è rafforzato a mio giudizio particolarmente dalle misure anche più recenti c'era anche in questi giorni un preprint che è uscito di un teorico di Harvard che portava ulteriori argomenti in questa direzione dove c'è maggior terreno di battaglia nel senso che usando una terminologia che i cosmologi amano c'è una certa tensione tra misure diverse e usando una terminologia che userei io c'è una certa discrepanza tra misure diverse è la questione di H0 cioè la costante di Hubble cioè il tasso di espansione dell'universo e su quello effettivamente le lenti gravitazionali hanno moltissimo da dire ma ci sono altri metodi allora lì purtroppo siamo in una situazione in cui i lentisti vanno in una direzione e chi lavora usando analizzando la fisica del fondo cosmico a 2.7 gradi Kelvin vanno in una direzione diversa e siamo a livello di 65 rispetto a 75 però le incertezze dichiarate da chi fa queste misure rendono queste due misure non compatibili l'uno con l'altro cioè sono fuori queste misure degli errori consentiti e dichiarati quindi secondo me più che sul parametro di massa le misure moderne si stanno incentrando in cosmologia a cercare di chiarire questa tensione tra diverse misure del parametro della costante di espansione dell'universo perfetto penso che la risposta sia stata più che esaustiva per Giuliano in questo momento non vedo altre domande anche se ripeto ringraziano le persone per la bellissima conferenza che è stata fatta ne avrei una io vediamo se rompiamo un altro foil più che una domanda è una considerazione intanto non conoscevo il risultato di Tommaso Treu del 2016 cioè della parte che giustamente lei ha sottolineato cioè il fatto che l'astronomia quando diventa predittiva effettivamente ha un significato molto importante aver visto diciamo predetto l'esplosione di una supernova a distanza sapendo effettivamente per effetto lente gravitazionale quando sarebbe successo questo effettivamente è molto interessante quando si vanno a studiare campi così lontani l'altra riguardava un po' il ballot cluster su cui appunto non giustamente non ci siamo soffermati perché il tema è molto ampio richiederebbe tutta una conferenza nello specifico ecco quanto sono diventati importanti e già lo si capiva un po' nella prima parte riguardo i radiotelescopi sono stati fondamentali per discriminare e dare capire davvero qual era il ruolo della materia oscura quanto sono importanti adesso invece la parte di astronomia che riguarda i raggi X cioè diciamo i nuovi strumenti per dire che guardano diciamo dallo spazio lunghezze d'onda che fino ad ora erano parecchio pletuse insomma nell'osservazione e nel tempo cioè da Chandra o anche gli altri insomma quanto sono stati come ruolo importante nel definire meglio gli aspetti della materia oscura negli ultimi anni ma quello che è stato solo sfiorato quello che ho detto che è successo proprio a cavallo tra novecento e l'inizio del nostro secolo è che l'astrofisica X ha fatto passi da giganti con telescopi nuovi Chandra e XMM Newton e quello che è successo è che visto il fatto che gli ammassi di galassie sono popolati da grandi quantità di plasma che emette intorno a qualche chilo elettron volt cioè sono appunto nella banda X l'emissione di cui stiamo parlando l'astrofisica X ha avuto un ruolo chiave nel chiarire la situazione a livello di presenza e distribuzione di materia oscura negli ammassi di galassie in maniera diciamo senza competitori in un certo senso i competitori sarebbero i lentisti cioè gli ammassi di galassie fanno da lente gravitazionale ci sono gli studiosi di lenti gravitazionali che nel usare l'effetto lente come diagnostica si poggiano a telescopi ottici quindi non X necessariamente però la cosa molto bella è che man mano che sono progredite tecniche e modellistiche per utilizzare queste diagnostiche X e lenti gravitazionali si è avuto convergenza cioè alla fine ci sono studi combinati di ammassi di galassie e si usano tecniche di X di misura di massa si usano che fanno appello poi alle leggi della fisica dei gas la fluidodinamica dell'idrostatica se vogliamo e poi tecniche di diagnostica di lente lenti forte lenti indebole e le misure vanno insieme questo è bello perché vuol dire che tecniche molto diverse non vanno in disaccordo l'una con l'altra nel caso del bullet cluster che dicevo è un caso unico e forse potrebbe essere l'unica forte prova finora a disposizione che non è facile cambiare le leggi diciamo non è facile che è inconsistente con l'idea di cambiare le leggi della gravitazione per supplire alla nostra ignoranza o al nostro desiderio di chiamare in causa materia oscura bullet cluster interviene così la parte blu è la massa totale dedotta la distribuzione di massa totale dell'ammasso dedotta dal lensing gravitazionale la parte rossa è la distribuzione della materia visibile che si sa essere dominata dal plasma intergalattico e che emette X e quindi è studiato in X in questo caso particolarissimo non c'è coincidenza del centro della materia totale della massa totale e della massa visibile bisognerebbe probabilmente vedere meglio le cose sull'articolo e nella discussione in cui mostrano che c'è uno scentramento tra le due componenti allora se le due componenti sono scentrate vuol dire che la massa totale non può essere che è legata a qualcosa altro che non vediamo e non vedono gli X e non vedono gli ottici questa è l'idea che sta dietro perfetto anche in questo caso risposta molto esaustica ci sono una serie di domande che nel frattempo si sono diciamo accumulate allora una è di Simona Bellaccini molto breve ma secondo me richiede una risposta abbastanza lunga chiede se il nostro punto di vista nel senso da dove si osserva l'universo ha in qualche modo influito nel senso ha un peso importante nella definizione che adesso almeno attualmente stiamo dando di Materia Oscura mentre le altre domande riguardano nello specifico sempre relativamente alla cosmologia di Alice Gelli chiede vorrebbe sapere se ci sono altre ipotesi che in questo momento sono al baglio dei fisici teorici se oltre alla Materia Oscura ecco ci sono diciamo degli altri elementi che non riusciamo ancora a capire che ci permetterebbero di giustificare il valore della densità del nostro universo così vicino a quell'uno che si diceva prima quindi diciamo se l'energia oscura si è iniziata a capire qualcosa oppure se c'è qualcos'altro ancora e poi sempre Giuliano Silei relativamente all'energia oscura diceva se non ho capito male ho comunque letto insomma che si è generata successivamente al Big Bang ma si può pensare ha detto appunto tra virgolette che l'energia oscura in qualche modo fosse già immagazzinata anche nell'universo primordiale quindi sono tre domande molto intense se vuole le ripeto anche no provo un po' andare vediamo se le ricordo il primo è se siamo in una posizione particolare esatto che qui ci ha fatto definire la materia oscura in qualche modo ecco che forse non è corretto ma quello direi di no perché inizialmente c'è stato appunto quel tipo di studio tipo Hort che riguardava le vicinanze del sole e quello uno potrebbe dire ha avuto un esito particolare o se tutto la discussione fosse ferma lì potremmo sostenere che stiamo discutendo di una porzione particolarissima dell'universo e chissà cosa succede alle altre parti ecco in realtà come ho cercato di far vedere nel quello che ho raccontato le misure attualmente di massa che poi alla fine se non sono compatibili con quanto riusciamo a vedere al telescopio ci portano a dire per differenza dovrebbe esserci tot di materia oscura per arrivare alla misura di massa effettuata ecco queste misure di massa le facciamo da tutte le parti le facciamo su galassie qui vicino del gruppo locale le facciamo sull'ammasso della vergine che è relativamente vicino a noi e poi lo facciamo su galassie che sono distante a miliardi di anni luce da noi con le lenti gravitazionali alla fine la resa dei conti è sempre la stessa cioè si rafforza la pittura ma non è solo una cosa qualitativa è molto quantitativa cioè per esempio questa il campo gravitazionale associato ha una curva di rotazione piatta uno lo lo vede in galassie ellittiche distante da noi miliardi di anni luce è una cosa straordinaria c'è la stessa evidenza del tipo dello stessa segnatura di campo gravitazionale che vuol dire delle regolarità su questi aloni presunti di materia oscura che sono certamente straordinarie sulle altre domande c'era una che riguarda diciamo il motivo per cui diciamo se c'è ecco un'altra entità qualcosa che ancora non stiamo considerando al di là dell'energia oscura della materia oscura che giustifichi in qualche modo che si stia pensando a qualcos'altro che giustifichi il valore della densità del nostro universo così come stimato da tante osservazioni così vicino a quello critico diceva perché ho letto in un libro di Balbi questo Alice Gelli il titolo del libro è l'ultimo orizzonte che diciamo che possiamo giustificare solo il 5% di questo valore grazie alle particelle che conosciamo a livello di materia poi appunto il discorso sulla materia oscura è stato spiegato abbondantemente in questa conferenza però ecco lei chiedeva se oltre a questo ci sono altre ipotesi che tendano a darci un incipit un indizio su cosa manca per completare la densità critica oltre all'energia oscura penso no forse per non essere frainteso rispetto a quanto ho detto è vero che noi non abbiamo identificato i costituenti della materia oscura quindi la domanda potrebbe essere ma che cosa potrebbe essere rispetto a possibili candidati per dire alla fine del secolo scorso si pensava alla massa di neutrini poi si è visto che c'erano una serie di inconsistenze che non rendevano quell'ipotesi non sensata ecco per non essere frainteso i nostri colleghi particellari come li chiamiamo cioè i fisici delle alte energie e i teorici che lavorano in quel settore di ricerca avrebbero in mente una classe di particelle che viene di solito indicata come WIMPS weakly interacting massive particles che hanno una loro giustificazione una loro logica all'interno appunto della fisica delle particelle elementari con la possibilità che potrebbero essere loro i costituenti di materia oscura della materia oscura tanto è vero che anche al Gran Sasso sono stati fatti degli esperimenti con la speranza di avere una segnatura di tipo particellare cioè di segnali consistenti con l'idea di questi WIMPS immaginando proprio che gli aloni dell'alone di materia oscura della nostra galassia che c'è perché il disco di materia oscura della galassia non c'è perché è fallito il progetto di Oort e Bacard però l'alone di materia oscura della nostra galassia pensiamo che ci sia perché la curva di rotazione lo richiede e l'alone dovrebbe essere tondeggiante sferico quindi l'idea che sta dietro a questi esperimenti al Gran Sasso è immaginare che i costituenti siano WIMPS quindi c'è un'idea ben precisa di cosa possono essere e andare a vedere di farne una rivelazione con qualcuno di questi detettori di questi esperimenti e finora non ci si è riusciti cioè qualcuno al Gran Sasso ha detto che ci sono riusciti che ci è riuscito si chiama l'esperimento in questione si chiama DAMA e poi non c'è stata conferma di questa identificazione poi se si va su cose fantascientifiche immaginare scenari che sconvoigono tutto beh non era questo forse né l'argomento di cui io potrei dire qualcosa e non sono al corrente di alternative particolarmente significative tranne quell'idea di Mond Milgram Mond sta per Modified Newtonian Dynamics nella quale si modificano le leggi della gravità un pochino prendendo spunto dall'incoraggiamento di Feynman e in pratica si riescono a spiegare tutte le curve di rotazione non si hanno problemi in pratica a quasi nessun livello tranne il quadro generale cosmologico che direi è secondo Mond ancora mancante e poi quel bullet cluster che è un pochino una stonatura ecco l'ultima domanda era riguardo all'energia oscura in realtà ecco su questa c'è una piccolissima correzione da da fare perché si è corretto Giuliano nella domanda mentre intanto rispondeva chiedeva adesso provo a riformularla correttamente se niente non riguarda l'energia oscura ma è diretta sulla materia oscura cioè se la materia oscura almeno se non ha capito male dice mi sembra di capire che la materia oscura si sia generata successivamente dopo il Big Bang ma si può pensare fra virgolette che in qualche modo la materia oscura fosse già presente anche diciamo nell'universo primordiale adesso dovrebbe essere formulata correttamente no no detta così è ancora più mi sembra più semplice la risposta che posso dare cioè il convincimento pensate a quelli che ragionano in termini di WIMPS è che la materia oscura c'è sempre stata non è che nasce a un certo momento per risolvere alcuni problemi è semplicemente il costituente che poi da un punto di vista di massa diventa quello dominante perché dominante perché come citavo nel caso degli ammassi di galassie il si dice si sostiene che l'85% della materia totale sia sotto forma di materia oscura pensate a WIMPS allora la situazione in questo quadro in cui c'è un'enorme quantità di materia oscura in termini di massa rispetto a materia cosiddetta barionica cioè gas e che poi il gas alla fine fa anche le stelle ma all'inizio chiamiamolo gas o plasma quello che volete c'è un'enorme prevalenza di materia oscura e questa enorme prevalenza è talmente riconosciuta fin dall'universo primordiale dai cosmologi che nelle simulazioni cosmologiche tipiche che vengono effettuate per studiare la formazione di strutture nell'universo le simulazioni sono portate avanti facendo evolvere soltanto la presenza di massa oscura di materia oscura e poi in una fase successiva ci si aggiunge la spolverata di materia visibile per accendere il Hubble Deep Field e quello ultraprofondo e accendere l'universo che vediamo perché dopo tutto noi vediamo la materia visibile non quella oscura ma le simulazioni sono tutte basate fin dai primissimi istanti sulla materia oscura bene io direi che a questo punto non mi sembra ci siano altre domande tutti i partecipanti hanno ringraziato per l'interessantissima conferenza c'è stato un commento molto piaciuto relativo al fatto che la materia oscura adesso mi sembra meno oscura di quanto era all'inizio della presentazione questo vuol dire che comunque l'astrofisica fa passo avanti e queste conferenze hanno davvero un peso e sono importanti insomma per la parte di divulgazione per far conoscere al pubblico lo stato attuale di ricerca io ringrazio ancora Giuseppe Bertin il pubblico per la pazienza i piccoli errori tecnici che c'erano all'inizio della conferenza che poi comunque è stata registrata e verrà messa in toto sempre sulla stessa pagina appena conclusa grazie mille ancora grazie Giuseppe spero di vederci presto all'osservatorio sì io ringrazio moltissimo voi per la pazienza perché anziché fare una cosa un po' impressionistica o affidarmi ho cercato di seguirmi di seguire una linea logica molto stretta e cercare di portare avanti alcuni argomenti con una certa precisione quindi questo può essere un po' noioso e faticoso quindi mi scuso se la lezione la conferenza è stata un po' impostata così ecco è stata faticosa non penso mi sembra che il pubblico abbia molto apprezzato proprio la la scansione perché appunto c'è stata una sequenza temporale che ci ha diciamo informato un po' tutti la parte che a me ha colpito molto tanto per chiudere la parte che riguardava la radioastronomia c'è quindi la riga a 21 cm dell'idrogeno che soltanto nei corsi di diciamo di astrofisica all'università li ho ho potuto capire quanto è diventata importante soprattutto nella parte di materia oscura inizialmente non era così chiara fino diciamo intorno all'anno in cui sono nato io c'è 85 e 86 e quindi insomma è stata davvero importante la svolta anche di questi nuovi strumenti diciamo che erano già utilizzati anche peraltro perché i radiotelescopi ormai ci sono veramente da tanto tempo però la riga a 21 cm quanto è stata poi importante per fare quello scatto di comprensione ecco della natura più che della natura di com'era distribuita la materia oscura che sulla natura ancora non ci siamo questo è un aspetto che spesso si tralascia nei corsi mi sono reso conto e invece sarebbe bene sottolinearlo perché non è un risultato ottenuto di recente è un risultato di tanti anni fa grazie ancora Giuseppe spero appunto di vederci a breve all'osservatorio in presenza grazie a tutti ancora buona serata e grazie a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie.